Tenetevi forte perché di giochi di caccia e fantasmi su questo canale ne abbiamo visti tanti, ma questo, credetemi, non sto esagerando, potrebbe essere definitivamente quello che spodesterà Fasmophobia dal suo trono imperiale. Questo perché questo This is a Ghost prodotto da New Sea Games in Early Access in versione V0.2e50 è una cosa che già al rilascio il 9 dicembre dell'anno scorso, quindi un mesetto fa circa, riesce a portare al livello successivo quella che è la caccia e l'esilio dei fantasmi. Credetemi e seguitemi con attenzione in questo video perché stiamo raggiungendo livelli altissimi. A partire, vabbè, cosa che può interessare o meno, la scelta delle skin. Ci sono già dei personaggi non customizzabili, ma fatti devo dire alcuni di questi molto 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 bene. Ci sono già diverse mappe, c'è la Lidl House, la casa piccola, la fattoria che ricorda un po' le case più grandi di Fasmo, c'è una villa a due piani, c'è una magione con armature, credo sia simile a castello. E torniamo alla casa. Ora io posso utilizzare solo la difficoltà facile, quindi non so dirvi quante ce ne siano in totale. E ci sono The Vanguard of Gvodan, The Nightkeeper e The Twilight Ravens, che sono tre società segrete per cui andare a svolgere dei contratti. Questo perché, se andiamo a vedere nel nostro diario, vedete, società segrete ci sono queste tre società. Noi livelleremo la fazione che sceglieremo durante le missioni per far sì che il mercante di ogni relativa società segreta ci vada a sbloccare, in questo caso ho iniziato a sbloccare le entità che sbloccherete con i primi dollari guadagnati in gioco, fino via via a, eccole qui, nuove difficoltà, delle migliorie nel crafting di alcuni oggetti che dovrete costruirvi nel gioco, raggio della flashlight, della torcia, aumentare il raggio dell'MF, insomma ci sono diverse migliorie. Aggiustare l'intensità della visione notturna, nuova mappa 20.000, insomma ce n'è di ciccia. E tornando nel libro, e andiamo a scorrerlo insieme, innanzitutto quando lo aprite vi dà già delle, una sorta di consigli. Le scritture regolari generano un, le scritture del fantasma all'interno della mappa generano regolarmente un campo elettromagnetico. Questo vi dice che se compaiono delle scritte e sono molto utili all'interno del gioco, queste scritte che il fantasma andrà a scrivere, creeranno una traccia EMF. Poi da lì 1, 2, 3, 4, 5 starà a voi scoprirlo e quindi assegnarlo nel diario. Le missioni innanzitutto richiedono per essere completate a 100% di scoprire l'anno di nascita e il nome del fantasma. Questi dati molto importanti sarà il fantasma stesso a darveli scrivendoli in giro in punti non ben definiti della location. Dovrete scoprire innanzitutto poi quale sarà la causa della morte e anche qui, non vi spoilerò niente, ma ci saranno delle chicche per scoprire e per far sì che il fantasma vi indichi come è morto. E poi dovrete indicare la stanza preferita. Questa sarà determinante poi anche questa per il completamento dell'investigazione. Ci saranno delle missioni, tre solitamente, e vi sarà indicato se sarà il giocatore, se sarete voi a doverle completare, o in caso compaia la scritta GRUP, significa che chiunque all'interno della partita, del vostro gruppo, del vostro team, potrà completare quella data missione. E poi c'è il behavior, il comportamento del fantasma, che può essere lost, vengeful o residuale, quindi perduto, vendicativo o residuale. E qui abbiamo nella scheda behavior i comportamenti e le caratteristiche principali. Allora, in sostanza, l'energia è quella che, in sostanza, definisce la vita, gli HP del fantasma. E parlo di HP perché, tra poco capiremo bene quando guarderemo l'entità, l'energia del fantasma la si può abbassare con determinate azioni, con determinati strumenti, e lui potrebbe recuperarla. A zero HP, a zero energia, a zero vita dell'entità, l'entità sarà bandita da questo mondo. La forza è la forza vera e propria del fantasma, che influenzerà la resistenza del vostro scudo, perché avrete uno scudo attivabile per difendervi durante le cacce. Questo scudo avrà un 100% di HP e scenderà via via che verrete attaccati, fino a non averne più e a lasciarvi completamente alla merce del fantasma. E questa forza indicherà anche la velocità con la quale lancerà gli oggetti in giro per le location. Ogni fantasma ha chiaramente anche la sua velocità, come in altri giochi, come in Fasmophobia. E' importante, dice, il totale dell'energia, le vulnerabilità alle armi e gli ingredienti che sono disponibili nel bestiario dell'entità potranno ridurre la forza, la velocità o l'attività in base a quella che utilizzerete e caricherete all'interno delle vostre cartucce. Perché tra poco vedremo anche la questione delle cartucce. Qui abbiamo i tre comportamenti. Il vengeful è quello in sostanza più, appunto, vendicativo, più aggressivo. Il suo unico obiettivo è quello di vendicarsi. Non si sa bene di cosa, probabilmente del fatto che sia morto. Non è raro essere attaccati immediatamente nei primi secondi di investigazione. Quindi, dovesse capitare di essere attaccati immediatamente o pochi secondi dopo l'inizio della partita, potrebbe essere già l'indicazione che sia un vengeful, un vendicativo. Poi abbiamo il residuale che raramente si renderà conto della presenza degli investigatori nella location. Quindi sarà molto, molto passivo. Ma attenzione, va bandito immediatamente da questo mondo, comunque velocemente, prima che impazzisca. E poi c'è il lost, un'entità che cerca l'eterno riposo. E i fantasmi riferiscono delle apparizioni minacciose di queste entità. Quindi potrebbe essere un'entità che si fa vedere un po' più frequentemente, ma senza andare ad attaccare. Scheda Craft. Abbiamo innanzitutto delle rune che potranno avere degli effetti di intrappolamento momentaneo del fantasma, anzi che avranno sicuramente degli effetti di intrappolamento temporaneo per qualche secondo. Ci sono alcune rune, ci sono diverse rune, ma solo quella giusta che verrà dalla combinazione dell'entità e del suo comportamento darà prova di essere effettivamente efficace. Quindi dovrete stare attenti a selezionare bene il fantasma e il suo comportamento, il suo behavior, il suo carattere per far sì che la runa funzioni. La runa vi servirà semplicemente per intrappolare il fantasma per qualche secondo e per darvi a voi la possibilità di andare ad attaccarlo. Attaccarlo come? Ci sono diversi strumenti. Quindi innanzitutto potrete creare delle cartucce con dei materiali base, che sono questi qui, che ora vi dicono niente ma poi capiremo il loro senso, e poi un additivo tra acqua santa, olio sacro e preghiera. E qui vedete l'effetto aggiuntivo che potete dare alle cartucce, quindi abbassare la forza dell'entità, ridurne la velocità di movimento o abbassare l'attività. Se su Fasmo abbiamo la sanità mentale, che man mano che scende aumenta l'attività e la pericolosità del fantasma, qui abbiamo semplicemente, ma in maniera più efficace secondo me, l'indicatore totale di attività. Nel momento in cui entreremo nella location e inizieremo la nostra partita sarà pressoché a zero e via via che faremo cose, che proveremo a parlare col fantasma o correremo, perché anche correre infastidisce il fantasma, quindi attenzione a muovervi lentamente durante l'investigazione. Comunque via via che questa attività totale aumenterà, aumenterà anche la possibilità di caccia del fantasma. Andando avanti nel nostro libro abbiamo la sezione foto che al momento è vuota e si riempirà nel corso della partita e poi abbiamo le nostre entità, che come potete vedere sono un buonissimo numero. All'inizio ne avrete credo 4, 5, 6 massimo tra cui iniziare, poi le sbloccherete attraverso il mercante e qui vedete già tutti i dati che vi possono interessare per riuscire a difendervi e riuscire a fare delle investigazioni come si deve. Poi sta a voi sfruttare questi dati e utilizzarli o chi invece vuole un'esperienza più alla fasma o più difficile non si legga niente e vada improvvisandosi cercando di scomplire, imparare sulla sua pelle quello che il gioco ha da offrire. Io sinceramente trovo molto molto utile il fatto di avere già tutti questi dati che tanto nella storia tutti quanti cerchiamo, tutti quanti mi avete chiesto e quindi è già utile avere tutto quanto qua bello elencato. Ad esempio del Ghost possiamo vedere che ha questo amount, questo totale di energia non è il più resistente, mettiamola così e inizia a inseguirti, a cacciarti dal 60 in su di attività e ha una velocità tra i 200 e i 400. Vediamo sulla destra le sue debolezze è molto 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 più vulnerabile ai colpi di pistola perché avremo anche una pistola speciale il Burning Flash che è una sorta di pistola che spara dei raggi di luce non gli fa granché e l'incenso ancora meno viceversa se passiamo al Wraith vediamo che Burning Flash e Gun sono un pochino più basse e soffre un pochino di più l'incenso. L'incenso in realtà non serve a fargli danno ma come leggete qui è una sensibilità all'incenso che praticamente blocca le loro abilità per qualche minuto e le abilità possono essere varie ed eventuali a seconda del fantasma. La debolezza del Ghost è che lascia diverse tracce alle sue spalle e probabilmente è il meno discreto di tutte le entità e la sua abilità è che la sua energia gli permette di muoversi velocemente in tutte le circostanze. Quindi probabilmente anche quando dovrebbe essere rallentato da un effetto da un vostro strumento o da una determinata circostanza lui comunque continuerà a muoversi velocemente. E poi cosa utilissima le note, gli appunti che potete scrivere di vostra mano e io ad esempio qui ho scritto forse la pistola è l'unica arma in grado di ferirlo perché qui non fa alcun riferimento a quale materiale dovrei andare a inserire nelle cartucce per fargli più male. Questo non è determinante ai fini della partita o meglio il più delle volte dovrebbe esserlo ma potreste tranquillamente azzerargli gli HP e la vita in altra maniera semplicemente con i colpi di pistola probabilmente ci vorrà di più perché gli farà meno danno che non avere il giusto strumento. Magari questo non è il caso del Ghost io ancora non l'ho giocato tantissimo ma potrebbe essere il caso del Ghost. Se andiamo avanti facciamo altri esempi io qui ho cercato di mettere note ovunque questo spirito ad esempio che iniziamo ad avere una vita bella bella piena al massimo inizia a cacciare però dal 70 invece che dal 60 quindi caccia un pochino dopo ed è più lento di base perché ha una velocità di 170 contro un 200 soffre abbastanza bene tutti e tre gli strumenti colpi di pistola, burning flash e incenso la sua debolezza è che ha l'orb tra le prove che è particolarmente visibile non puoi non vederlo e cosa molto importante alcune lamiace sono efficienti nel cacciare lo spirito le lamiace sono delle piante e potrebbero essere il Sage che sarebbe la salvia o il St. John's che è un altro tipo di pianta di lamiacea con fiori gialli e qui ho scritto Crushed Sage o St. John perché noi abbiamo Crushed Sage e St. John's World qui e ancora non so quale è più efficace lo scoprirò man mano che si gioca qui ad esempio dice nell'Uyurei che il legno sacro ha delle qualità uniche per cacciare l'Uyurei e il palo santo la scheggia di palo santo è un legno sacro quindi potrebbe essere questa il demone dice St. John's World sono efficaci nel banishing nel bandire il demone dal nostro mondo quindi qui ho scritto usare cartucce con St. John's World possibilmente con Acqua Santa perché sappiamo che il demone è molto 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 forte vedete qui abilità l'attività totale quindi l'indice di caccia non sempre indica la sua vera forza quindi possiamo andare a contrastarlo credo io poi magari mi sbaglierò creando delle cartucce con St. John's World e l'additivo che è uno di questi tre qui utilizzerei l'acqua santa che abbassa riduce la forza dell'entità questa è una mia speculazione poi effettivamente sarà da verificare poi io ho già sbloccato altre due entità che sono queste la sirena dove ancora non sono riuscito a scrivere note perché qua dice la sua forza è anche la sua debolezza può essere facilmente identificata con la sua capacità ha la stessa sensibilità dei lupi mannari e qui non capisco soffre tantissimo l'incenso ma l'incenso servirà ad abbassargli la vita? non lo so sciarma le sue vittime drainandogli abbassandogli la vita la resistenza la forza non si sa forse lo scudo qui è da capire una cosa particolare del demone che ho provato in gioco è la possessione potreste iniziare a camminare a caso da soli senza muovere senza che voi facciate nulla e in questo caso è una chiara indicazione che avete a che fare con un demone e poi lo yokai per finire ci dice la sua debolezza è la polvere di ossa nelle cartucce funziona bene per bandirlo e l'abilità è che l'apparizione spesso precede una caccia quindi se doveste vederlo e caccia immediatamente dopo potrebbe essere uno yokai e qui è usato ho scritto usare cartucce con polvere di ossa ce n'è come vedete altre tante 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 c'è l'ifrid c'è il shapeshifter che probabilmente cambierà forma in una simile a voi o a un vostro compagno di squadra c'è il revenant poltergeist raiju le entità alla fine folkloristiche sono quelle quindi non è anche qua un copiare fasmo ma è un andare a utilizzare quelle che effettivamente nella storia nel folklore dei fantasmi degli spettri sono delle entità effettivamente riconosciute questo credo che sia tutto se non andare a vedere effettivamente se ok questo non l'abbiamo visto ma qua semplicemente funziona come fasmo sentite delle voci lo segnate non sentite delle voci potreste eliminarlo e quindi andare a riconoscere subito che si tratta di un demone oppure se cliccate direttamente sull'entità vi va a indicare lui senza tornare alla pagina del relativa all'entità stessa quali sono le prove che dovreste ottenere se ad esempio venite posseduti immediatamente in inizio partita e il vostro personaggio inizia a camminare o qualcuno della vostra squadra vi dovesse dire mi sto muovendo ma non mi sto muovendo io sono posseduto cliccate su demone e lui vi dice già cosa dovete raccogliere per confermare effettivamente la presenza del demone e quindi poi andare a utilizzare data data di nascita scusate il nome del fantasma la ragione della morte la stanza infestata e via via tutto questo io direi che come introduzione questo quarto d'ora è servito a darvi un'idea di massima di quello che sulla carta è il gioco e promette molto 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 bene sono contento di averlo scoperto grazie a Daphne che me l'ha regalato ora direi di darvi il via su quella che è effettivamente una partita che vedremo tra poco